Dottor Polini, un altro fulmino a Celsereno qui all'ospedale di Benne perché c'è la possibilità della chiusura del reparto di ortopedia, un reparto che comunque vanta dei numeri importanti durante tutto l'anno. La speranza è che ovviamente ciò non avvenga perché i numeri che facciamo sono abbastanza importanti, basti pensare a circa 700 interventi l'anno, prestazioni ambulatoriali, siamo su 7-8 mila pazienti, siamo comunque in tre, siamo pochi e io spero che l'asola di Pescara attraverso le persone competenti possa porre rimedio perché ovviamente in tre questa situazione non è sostenibile. Tutto questo è scaturito dal pensionamento del dottor Liberi, il fatto di chiudere questo reparto potrebbe poi far andare in sovrannumero un ospedale come quello di Pescara o quello di Popoli? Noi siamo qui per lavorare, noi siamo ortopedici, vogliamo operare, vogliamo fare il nostro lavoro, ovviamente nelle condizioni migliori sia per noi ma soprattutto per i pazienti. Non siamo contenti ovviamente di sovraccaricare i colleghi di Pescara e di Popoli, non ci fa piacere ovviamente che i pazienti da Penne e dal circondario vadano a Popoli o a Pescara, questo nel migliore dei modi, ma non per noi, più che altro per loro che sono messi sicuramente a disagio oltre che dal trauma anche da un viaggio abbastanza impegnativo. Speriamo che questa situazione si concluda al più presto con l'arrivo di una quarta unità che possa sostituire il dottor Liberi.